Ok, quindi riepilogo la lezione di Blender che abbiamo fatto a Sperimenta l'altro giorno la settimana scorsa in cui parlavamo, facciamo un riepilogo generale delle normal map e vediamo come fare un esempio un po' significativo in cui un modello ad alta risoluzione diventava modellato grazie alle normal map in modo tale da essere reso in Second Life in un modo usando pochissimi prima allora innanzitutto cosa facciamo? seguiamo lo schema, quindi cancelliamo il nostro cubo e creiamo Shift A, creiamo un piano Alt G lo mettiamo al centro delle coordinate e poi andiamo, proviamo a fare un 7 5, in modo tale da avere la vista dal top in formato ortogonale e poi qua andiamo in modalità Sculpted perché vogliamo scolpirci, abbiamo cercato di scolpire una specie di cratere allora per scolpire il cratere abbiamo usato una feature che avevamo in Sculpted Mode che era la possibilità di... andiamo in topologia abilitiamo il modalità dinamica mettiamo una dimensione relativamente piccola, 5 che permette di fare un po' di dettagli e poi eravamo andati, vedete, a fare una specie di... andiamo a scolpire, quindi scolpiamo qualcosa che esce fuori una specie di cratere, no? quindi continuiamo, continuiamo, continuiamo facciamo un cratere abbastanza alto e poi abbiamo fatto notare, mi era stato chiesto come incidere adesso io semplicemente premuto il tasto sinistro del mouse se io premo invece lo Shift, il Ctrl, scusate il Ctrl invece incide vedete che quindi faccio il centro del cratere lo faccio sprofondato vedete che sprofonda abbastanza e poi sempre con Ctrl posso fare degli avvallamenti sparsi qua sto prendendo Ctrl oppure senza Ctrl faccio dei rilievi, no? quindi sto gestendo praticamente una struttura abbastanza complicata, no? quindi un cratere lo sto scolpendo ecco questo è un esempio di una scultura che non si presta in realtà bene con la tecnica che abbiamo visto qualche settimana fa che era la tecnica in cui che chiameremo a basso rilievo in cui se le cose che stavano sporgendo dal piano erano abbastanza limitate si poteva fare con un solo piano qui invece come vedete abbiamo delle cose che sporgono ben più del 5% della superficie quindi non si può usare quella tecnica però vedremo adesso una tecnica che permette di risparmiare considerevolmente perché se voi andate in questo oggetto andate in Object Mode vedete che questo è composto da 24.000 vertici che più o meno su Second Life diventano una trentinaio di primi se non di più quindi la cosa fondamentale è vedere come fanno le normal map ad aiutare a rendere questa cosa qua con pochissimi primi allora la cosa da fare in realtà qui è di avere due modelli un modello ad alta risoluzione che è questo e poi costruiremo un modello a bassissima risoluzione cioè che però cerca di andare un po' su questo cerca di replicare questo modello allora per farlo cosa facciamo andiamo in Object Mode ok e a questo punto cosa facciamo ci costruiamo no, prendiamo sempre questo oggetto e lo duplichiamo quindi con Shift D Z vedete che mi sono preso una copia del modello e la copia del modello la faccio ancora Alt G ma è una tale che corrisponda esattamente a quella precedente e però cosa faccio? gli aggiungo un modificatore molto interessante che è il Decimate allora il Decimate permette di ridurre da queste... vedete che adesso abbiamo 50.000 facce in realtà possiamo fare 0,01 anzi 0,005 e quindi trasformare tutta questa cosa qua vedete ha un numero di facce molto più basso quindi se noi... per vedere quante facce effettivamente ha fatto ma vedete sono 239 facce quindi sensibilmente di meno applichiamo in Object Mode questo modificatore ok e quindi noi abbiamo fondamentalmente vedete che il numero di facce è molto piccolo cioè in realtà è abbastanza grosso da riuscire a seguire un po' il contorno purtroppo come vedete il Decimate ha un difetto che genera tutti i triangoli i triangoli non sono il massimo della topologia perché l'ideale sarebbe avere dei quads ok quadrangoli però insomma è accettabile vedrete che adesso questo qui ci permetterà probabilmente di lavorare abbastanza dignitosamente ok beh innanzitutto qui la cosa soltanto da verificare è che su questo oggetto questo qui gli mettiamo e questo è molto importante lo facciamo Smooth ok lo Smooth perché è Smooth perché è Smooth adesso lo tiriamo su un attimo vedete che appare sì in realtà vedete che è un modello di quest'altro qua che ricorda abbastanza però è molto semplificato in realtà segue più o meno la topologia ma è molto meno dettagliato tra l'altro facciamo magari Smooth anche quello di base ok beh qui la differenza non si vede perché il numero di vertici è abbastanza elevato quindi adesso vedremo come potremmo fare a trasformare quindi selezioniamo questo facciamo Alt-G mentre è da metterlo sovrapposto all'altro e cerchiamo di fare in modo tale che la topologia del secondo venga sovrimpressa in termini di Normal Map sul modello a basso numero di poligoni low poly quindi prendiamo plane 001 lo chiamiamo LP cioè low poly cratere perché i crateri diciamo questa è una specie di cratere mentre invece il piano 1 che era quello con tantissimi vertici lo chiamiamo high poly cioè ad alto numero di poligoni quindi HP cratere ok allora adesso quello che vogliamo fare è di fare il backing della forma ad alta risoluzione nella forma a bassa risoluzione però prima di fare il backing occorre avere lo facciamo di qua occorre avere una UV Map del modello a bassa risoluzione quindi selezioniamo LP questo andiamo in Edit Mode e proviamo a vedere se riusciamo con U a fare l'unwrap e tendenzialmente mi sembra che l'unwrap sia buono nel senso che vedete che occupa più o meno abbastanza bene tutta la tutta la nostra cosa lo allarghiamo un po' notare da essere che sia un pochino che copre più o meno tutto il 100% o quasi e poi proviamo creiamo una nuova immagine l'immagine togliamo l'alfa lo chiamiamo allora lo chiamiamo normal map cratere ok quindi normal map cratere vedete che segue adesso è tutta nera e adesso cercheremo di crearci la normal map quindi come facciamo a crearci la normal map usiamo sempre il workflow originale allora innanzitutto abbiamo l'uvimap sul modello a bassa risoluzione poi andiamo qua dove facciamo il bake e nel bake eccolo qua nel bake semplicemente diciamo select to active questo e diciamo di fare le normals però le normals dobbiamo prima selezionare clicchiamo su hp high poly poi con shift selezioniamo anche low poly vedete quindi hanno due colori diversi in arancio l'hp e in giallo l'p quindi prima quello da alta risoluzione poi con shift premo quello e a questo punto in teoria dovrei essere pronto per fare il bake delle normali cioè facendo il bake di normale lui prende il primo che ha selezionato e genera il baking dentro il low poly cioè la uvmap del u poly che abbiamo fatto prima facciamo il bake e vedete che tendenzialmente ha generato un qualche cosa di valido adesso qui ci sono probabilmente alcuni piccoli difetti che possono forse essere aggiustati mettendo un pochino in ordine insomma la nostra cosa però ai fini del nostro del nostro tutorial supponiamo che ci vada bene così qui mi aspetterei comunque che ci sia una due e tre punti che forse sono delicati che non sono che però magari potrebbe andare bene allora questa qui vedete che è una normal map buona e il fatto che sia buona perché è blu violacea che quindi è la normal map del cratere ora per vedere se va bene cosa facciamo selezioniamo l'LP cratere questo anzi facciamo così prendiamo l'HP cratere questo e poi lo nascondiamo facciamo H lo nascondiamo vedete che abbiamo l'immagine a bassa risoluzione che è il low P low poligoni e poi su questo low poligoni andiamo a prendere metterci un materiale gli ho applicato un materiale su questo materiale gli aggiungiamo una texture la texture è quella che abbiamo appena fatto quindi mettiamo image or movie l'andiamo a prendere nm normal map ora per vedere questa texture ci sono parecchi sistemi comunque adesso mettiamolo un attimo come dio comando quindi la mettiamo come uv e come la uv map che abbiamo fatto appena fatto e gli diciamo che questa uv map non è sul colore ma è una normal map e poi però attenzione adesso vediamo un po' come viene allora per vedere come viene possiamo ecco questo è un trucco abbastanza interessante andiamo sullo shading shading usiamo il GLSL facciamo texture solid ok sul texture solid gli mettiamo il texture questo ok però vedete che viene tutta sbagliata quindi la aggiustiamo qui dobbiamo ancora segnare che nel image mapping no image sampling diciamo che è una normal map tangent ed ecco che vedete che ci ha praticamente modellato il modello bassa risoluzione come se fosse ad alta risoluzione adesso forse non ci avete fatto caso troppo però se noi togliamo e mettiamo solid vedete che abbiamo il modello forse per vederlo andiamo in rendered vedete che abbiamo questo oggetto l'altro qui può darsi controlliamo magari ancora sul edit mode questo solid questo controlliamo solo che le normali siano tutte giuste quindi allunghiamo le normali e mi sembra che siano tutte che puntino ci sono alcune normali che puntano verso il basso che non dovrebbero queste sono probabilmente quelle che danno problemi quindi dovremmo in teoria accertarci che tutte le normali puntino nella stessa direzione ma magari è giusto anche questo qui che puntano verso il basso sono delle facce che stanno puntando stanno puntando verso il basso comunque al limite poi ve le aggiustate comunque questo è il 30 non ci stiamo nel nostro nel nostro visuale quindi andiamo ancora nel texture quindi questo vedete che abbiamo effettivamente lui ci fa vedere come vedrebbe il nostro oggetto e direi che questo è quanto possiamo fare allora per depositare in second life cosa facciamo selezioniamo il nostro oggetto facciamo file export collada e qui selezioniamo l'export in formato no non avastare perché questa è una cosa che ho io ma è file export normale questo ok operator presets static quindi selection only eccetera eccetera sotto c io faccio sotto c qui mettiamo lo poli cratere e così ci ha esportato il cratere spero che l'abbia fatto ok e poi ecco l'immagine ce la salviamo anche questo facciamo save as image la salviamo sotto c e facciamo nm cratere qui facciamo nm cratere 1 save as image ce l'ha salvata ora quello che dobbiamo fare è andare poi in esempio qui sono su open sim ma il concetto non cambia di una virgola ovviamente devo avere firestorm e qui ecco mi risparmio anche qualche soldino perché qui è gratis per l'upload qui carico il lp cratere ok lp cratere facciamo calculate e upload allora lp cratere questo qui nel momento in cui lo provo a visualizzare vedete che è un cratere fatto però questo forse su il mondo non funzionano i materiali quindi devo essere su second life ok eccomi su second life qui dovrebbero funzionare meglio i materiali facciamo un upload del mesh model sotto c e mettiamo il famoso lp cratere allora lp cratere facciamo magari facciamo generare i normali così vediamo se ce l'è giusta casomai fossero sbagliate e gli facciamo calculate weights and fees allora avendo pochi triangoli pochi vertici dovrebbe essere sotto il prim infatti è mezzo prim quindi lo facciamo e poi magari vediamo anche solo per vedere la differenza prendiamo invece il facciamo alta h e selezioniamo l'hp cratere questo e facciamo l'export con l'ada questo sotto c e sotto c sempre con il static facciamo hp cratere era solo per farvi vedere la differenza tra i due modelli l'lp low poly e il high poly quindi abbiamo pagato abbiamo detto che è mezzo mezzo prim il low poly proviamo invece a importare il high poly l'high poly hp vedete che decisamente più grande facciamo l'open facciamo hp cratere facciamo anche qui generate normale le calculate vedete che prima era mezzo prim adesso questo qui vedete che ci impiega decisamente di più calcolare quanto quanto costa vabbè il modello della terza soluzione non me lo fa caricare probabilmente se è troppo grosso o qualcosa del genere proviamo a vedere il modello che mi ho caricato prima low poly il low poly cratere eccolo qua lo attrezzare eccolo qua l'ha rezzato vedete che in realtà si capisce anche che è un cratere però vedete che è molto abbozzato perché è fatto da pochissimi triangoli ora il nostro obiettivo è quello di dimostrare che mettendoci quindi adesso questo qui lo lasciamo così lo duplichiamo e in una delle due versioni ci applichiamo la normal map quindi facciamo l'upload dell'immagine corrispondente alla normal map normal map l'abbiamo chiamata nm cratere 1 fatta oggi oh doveva essere questa ok sembra che sia lei facciamo l'upload ok quando non appena arriverà ecco è arrivata la la dobbiamo impostare come normal map allora qua l'unica cosa ricordiamoci andiamo sui graphics dobbiamo avere advanced lighting model acceso ALM e cosa che è qua andiamo sulla texture che è in firestorm andiamo sui materials e andiamo sul bumpiness che sono le normal e ci mettiamo la normal map ok ora se vedete il fatto di applicare la normal map ha consentito di vedere il cratere in maniera un po' più precisa vedete rispetto a come era senza normal map quindi senza normal map vedete che si vedono si vede che è un cratere ok però si vede che non è proprio ben fatto invece con le normal map vedete che a meno di alcune piccole imprecisioni qua che sono dovute come l'avevo fatta vedere prima alla normal map che poteva essere ottimizzata probabilmente qualche normal non correttissima però sono riuscito a ottenere il livello di dettagli un livello di dettaglio apparente almeno incredibile risparmiando un sacco di prim per ottenere lo stesso effetto senza normal map qui avrei avuto bisogno di un trentinaio 30-40 prim mentre invece qua siamo a mezzo prim anche se adesso ne segna uno perché il minimo è uno però si possono ottenere un sacco di dettagli semplicemente usando le normal map ora questo praticamente era il sunto dell'incontro che abbiamo fatto l'ultima volta quindi ci a risentirci alla prossima lezione dove facciamo retopo